Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la prima maglia del Manchester City per la stagione 21-22 nella versione FUN o REPLICA. Dieci anni dopo l'incredibile gol nel recupero che regalò al Manchester City il titolo delle Premier, il club ricorda quel momento nella sua nuova maglia. Il minuto della storica rete di Aguero è impresso nel colletto. Il motivo grafico ripetuto tono su tono raffigura infatti un orologio digitale. Il colore della maglia è il tradizionale sky blue del club. Era il Manchester City allenato da Roberto Mancini con l'attuale città nazionale italiana che fece l'impresa di riportarlo a vincere il titolo della Premier a 44 anni di distanza dall'ultima volta. Un successo che aprì l'era del City vincente dell'ultimo decennio. La tecnologia di termoregolazione Dry Cell garantisce una sensazione di asciutto e comfort. La maglia è realizzata con fibre riciclate allo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti Puma. Siete ancora qua? Cosa ne pensate della maglia? Nella mia classifica questa prende tre stelle. È una bella maglia fatta bene. Vi ricordo peraltro che in descrizione trovate tutti i riferimenti per poterla acquistare. Quassù trovate diverse altre recensioni sempre del Manchester City che vi invito a vedere per scoprire le varie differenze. Ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione fan o replica. Per mio gusto di questa maglia a me andava bene una taglia inferiore, una media. asattenzione.